Buongiorno, benvenuti a tutti quanti voi per questa rassegna stampa di oggi sabato 7 settembre. Allora vi dico subito che sui giornali ci sono un sacco di cose divertenti, ci sono articoli interessanti. Oggi è una giornata in cui si potrebbe fare una rassegna stampa molto più lunga di quella che riusciamo a fare nei nostri 10 minuti. Partiamo subito quindi dalle questioni che riguardano il Governo. Il Corriere della Sera con Nando Pagnoncelli, la prima che vedo è Laura e Melania e le saluto, con Nando Pagnoncelli che fa un sondaggio sugli italiani e quanto amano questo Governo. Rullo di tamburi e ci hanno raccontato che il Governo è la pacificazione, ci hanno raccontato che tutti quelli del PD erano d'accordo, ci hanno raccontato che il Russo era d'accordo, che i votanti del Movimento 5 Stelle erano d'accordo, che l'Europa era d'accordo, che tutti erano d'accordo, ma Pagnoncelli sul Corriere della Sera che è d'accordo su questo Governo, dice che solo il 36% di italiani è gradito questo Governo, il 52% degli italiani non vuole questo Governo e ovviamente vorrebbe le elezioni, cosa che si capisce chiaro a tutti quanti. Questo è il sondaggio oggi del Corriere della Sera, ovviamente le cose possono cambiare, ma questo è il sondaggio in cui c'è il volemosebbene del Governo, anche se i primi nodi, come nota lo stesso Corriere, sono venuti al Pertine sulla sanità e sui cantieri. I cantieri li avevate capito già ieri, quando abbiamo fatto la zuppa di porro di ieri, perché la De Micheli, neo-ministra dei trasporti, li vuole fare, vuole fare le opere pubbliche, è una persona ragionevole e vuole fare la gronda e dice possiamo anche rivedere le concessioni autostradali, ma non così, perché ci siamo svegliati una mattina, purtroppo ci sono delle leggi e dei contratti che si devono rispettare, anche se è successo il Ponte Morandi, una roba che in un paese di diritto si fa, perché se il Ponte Morandi è responsabilità dei Benettoni fa un mazzo così, ma purtroppo la devi accertare questa vicenda. Questa roba qui ovviamente non è andata giù, saluto Corrado, Francesco e Giovanni che si è ora collegato, questa roba qua non piace certamente al Movimento 5 Stelle che pare che sia andata su tutte le furie. Ricolfi sul messaggero, oggi è sempre lucido Ricolfi, devo dire il messaggero c'ha degli editori listi che a me piacciono molto, Ricolfi, Nordio, Gervasoni, anzi Gervasoni scrive di meno in questo periodo, ma comunque Ricolfi dice ormai cosa fatta capo A, so che a molti di voi non piacerà questo ragionamento, ma ormai il governo è stato fatto, si chiavisce dice Ricolfi nelle prime righe del suo pezzo che questo è un governo che nasce da una manovra di palazzo e la manovra di palazzo nasce dal fatto che non si voglia votare e non si vuole votare perché si ha paura del voto degli italiani, cosa peraltro che sta avvenendo anche in Inghilterra con Boris Johnson, ma il punto fondamentale dice Ricolfi non è questo, ma se questo governo continuerà con la sua passione per la decrescita felice, questo sarà un vero problema, tutti contro l'idea delle disuguaglianze, ma il tema fondamentale è che per battere le disuguaglianze se pensiamo di ridurre tutti in povertà, come disse la Thatcher, il modo migliore per ridurre le disuguaglianze è rendere tutti poveri, è quello che vogliamo? Si chiede Ricolfi. Se è vero che c'è tutta l'Italia, una parte d'Italia, scusatemi, che è contro questo governo in maniera maggioritaria e solo minoritaria è a favore, quelli che sono sicuramente a favore, che hanno già capito dove mettere il chiodino, dove attaccare, avete presente il gioco del sombrero? Fum! Il sombrerone sono quelli di Confindustria. Sole 24 ore oggi, ma perché in questo caso non sta facendo una forzatura, ma è una verità, ci dice che Cernobbio, cioè quell'enclave in cui mi sembrava che i 5 Stelle non ci volessero andare, oggi ne sono i partecipi in maniera diretta, quell'enclave di grandi burocrati, alti magistrati, articolisti, giornalisti pomposi, imprenditori che debbono il loro stipendio, l'auto, alla politica? Eni, Enel, Snam, Rete Gas, Italgas, tutte persone magari degnissime, ma obiettivamente loro azioniste è la politica, CDP è la politica, Post è la politica, volete che ve l'icido? Cioè tutti i grandi manager di Stato sono pagati dalla politica e sono pagati e scelti dal Tesoro, e il Tesoro da chi è fatto oggi dal PD. E che cosa pensano di questo nuovo governo? Ogni bene possibile, anche perché fra pochi mesi dovranno essere innovati. Volete sentire Nicola Porro che dice che Berlusconi, suo editore, è un pessimo imprenditore? Volete Nicola Porro che vi dica che Vivondì è un grande azionista? Io posso anche essere convinto che siano pessimi quelli di Vivondì, ma nei vostri confronti perdo un pochino di credibilità perché sapete che ognuno ha un suo editore, ognuno ha un suo azionista. Ecco, l'azionista di Cernobbio è il governo, qualsiasi governo, e il governo è amato da Cernobbio. Non so se questo mio discorso diciamo antipocrita vi piace, ma per me è così, non so se Cernobbio sia Bildenberg e mi interessa anche relativamente poco. Cernobbio è governo. E quindi allora Conte. Il fatto se la prende con due burocrati, in particolare Anastasi con Franceschini e Garofoli con Gualtieri, che sono magari anche due molto bravi, ma per lui sono sempre i dinosauri che ritornano a dare una mano a questo governo. Quando invece erano le segretarie del quartierino da cui provenivano i ministri che non avevano mai fatto nulla nella vita, andava bene. Ma se sono dei burocrati che lavorano da vent'anni in amministrazione, solo per questo sono morti. Ecco, bisogna cercare di trovare una via di mezzo tra Cernobbio e fatto. Vespa, che è un grande giornalista, vi dico la verità, è veramente un grandissimo giornalista perché io lo leggo su Quoterno Nazionale e dice sempre delle cose intelligenti. Dice che questo governo durerà, speriamo di no, penso io, ma comunque non è importante quello che spero, è importante quello che succede. Ma la cosa fondamentale che dice è che sarà fondamentale vedere che ruolo avrà Gentiloni in Europa, appena nominato commissario europeo. I giornali ieri dicevano la grande vittoria dell'Italia, vi abbiamo già attribuito i portafogli importanti, tra cui quello economico e finanziario di Moscovici, che sarebbe quello che giudica la nostra finanziaria. Pare che non lo prenderà, così dice il Financial Times. E Vespa dice su quello si capirà se l'Italia ha veramente portato a casa un risultato o se no ha ottenuto esattamente quello che aveva prima. Bello, bellissimo, il pezzo di Macioce sul foglio, sul giornale, lo dovete leggere in concomitanza con un pezzo altrettanto bello sulle elezioni norvegesi sul foglio, perché le due cose vanno insieme. Il nuovo fronte non sarà più comunisti liberali, ma sarà integralisti e ambientalisti contro liberali. Gli integralisti e i libertalisti sono impazziti, è tutto inquinamento e su quello, esistendo questo problema, vi porranno delle tasse. Dice Macioce, i grillini, Savonarola dell'ambiente. Ma in Norvegia, dove si stanno facendo le elezioni regionali locali, stanno tassando non le auto che sono tassate, non la benzina che è tassata, non i pedaggi in autostrada che sono tassati, ma ci spiega il foglio, sono tassati i passaggi delle auto nella stessa strada, quindi vuol dire che un'auto che fa una strada all'interno di un paese 10 volte è tassata per 10 volte, una che ne fa 5 e 5, perché inquina e quindi questa tassazione farà sì che i ricchi potranno usare le auto quanto gli pare, perché potranno sopportare di pagarle, e gli altri poveracci no. Un po' come il diesel in Italia, se tu hai un ritmo degli anni 80 sei fottuto, ma perché c'è un ritmo degli anni 80 invece che una orrenda Mercedes con un po' di ibrido dentro? Perché non c'è soldi per comprarti l'orrenda Mercedes con l'ibrido dentro, no? E quindi questa grandissima ipocrisia dei Savonarola e dell'ambiente tra il Fattra e il Macioce e il foglio oggi è ben svolta. Vi ricordate l'uragano Dorian che avrebbe dovuto distruggere la Florida, il North Carolina, il South Carolina e quello che volete, perché questo è il funzionamento dell'allarme ambientale, arriva Dorian, il più importante, ucciderà gli italiani, gli americani, sono tutti distrutti, fanno vedere le cose, le palme che cadono, eccetera. Forza uno, arriva in America che è una specie di pisciatina, certo da fastidio ma è una pisciatina. Ah, dice oggi l'avvenire, distrutto le Bamas, può essere e mi dispiace, ma è la zona in cui non da oggi, da 500, 600, mille anni, purtroppo quelle isole sono distrutte, tempestate dagli uragani. Noi ne stiamo creando una specie di gigantesca bolla mediatica per cui Dorian, anche se non è passata negli Stati Uniti, anche se non ha fatto i danni negli Stati Uniti, i danni nel nostro cervello li ha già fatti perché li abbiamo precostituiti prima che arrivasse, poi non è arrivato, non è arrivato, non c'è. Grande sponsor del governo Landini, fantastico, oggi su Repubblica, dice finalmente dopo 14 mesi di campagna elettorale, un governo c'è, meno tasse sul lavoro ed evasione fiscale. Bravo, hai detto due cose intelligenti, abbiamo capito che grazie a Landini faremo, ma insomma è inutile che vada avanti a pensare di Landini. L'ultime due cose che vi voglio segnalare riguardano Capezzone, il mio amico Capezzone che scrive sul mio sito nicolaporro.it ieri si è permesso di fare una battuta sul vestito della Bella Nova, quel vestito blu elettrico, definendolo orribile. Devo dire, può starci non starci la battuta, mi interessa poco, ma quello che è incredibile è che è diventato un caso politico. Tra l'altro la Bella Nova ha risposto sui social a questo suo vestito in maniera stupenda. Io mi sentivo elettrizzata, sono una donna, sono fatta così. Devo dire che la risposta della Bella Nova ne dota una grandissima intelligenza, non perché quello fosse un insulto, ma perché secondo me uno ti rompe coglioni sui vestiti e lei dice a Capezzone, ma io mi sentivo così, mi sentivo blu elettrica, chi se ne frega? Devo dire che lì si sarebbe potuta confinare su una battuta più o meno riuscita e su una risposta sicuramente molto azzeccata, mi sentivo elettrica e mi sono vestito blu elettrica, cioè gli stringerei la mano a una che mi dice una cosa di questo tipo quando io magari esagero con le mie battute alla zuppa. Ma il punto non sono questi due, il punto è che questo è diventato una specie di prima pagina di tutti quanti i giornali, la destra, le unite tastiera e il fango, il fatto che lei abbia fatto la terza media non è accettabile, Gramellini che moraleggia quando c'è una causa, diciamo, morale, lui c'è sempre in prima fila a dire la cosa giusta che vi aspettate, quello è Gramellini e tutti quanti che dicono la cosa giusta, poi oggi mi accorgo con un trafiletto, io non l'avevo seguita bene, che un giornalista della Rai, un giornalista della Rai che non è Capezzone, che è un libero professionista a cui Calenda ha detto non dovresti essere più invitato a dei talk show di Mediaset, caro Calenda fammelo decidere a me, non a te chi è invitato e chi non è invitato, ma comunque lasciamo perdere un giornalista della Rai, caporedattore, non l'ultimo arrivato di Radio 1, un caporedattore di Radio 1 pagato da tutti quanti noi, legittimamente, sarà bravo, non sarà bravo, augura il suicidio a Salvini e questo passi, ma oltre a augurarli il... passi fino a un certo punto, retoricamente passi e dice tua figlia dovrà, mi spiace per quelli che conosco che votano Salvini, ma tua figlia dovrà fare un percorso di riabilitazione, allora io dico stiamo rompendo le balle a Capezzone che ha fatto una battuta e invece il giornalista Rai che il giorno dopo pizzicato su questo post dice lo rifarei, stiamo zitti e muti, ma noi giornalisti non la Rai perché giustamente la Rai ha aperto un'azione disciplinare, io non lo conosco e non so chi sia questo qua, ma io dico e poi io sono uno di quelli che dà un sacco di giudizi sulle persone, figuratevi un po' voi se io posso pensare, ma ho augurato io il suicidio di qualcuno, ho augurato io, come possiamo dire, un percorso di riabilitazione nei confronti di una figlia che non c'entra nulla, non neanche nei confronti di Ciro Grillo che è accusato, anzi tenderei a difendere tutti i figli di, che non hanno nessuna colpa ad essere figli di, ma io dico, ma in questo caso perché i giornali non hanno avuto lo stesso atteggiamento che hanno avuto per Capezzone, perché i giornali non ci dicono per esempio tranne oggi il giornale che quella professoressa di 51 anni che dopo che è morto un carabiniere ha detto uno di meno, beh quella professoressa è ritornata in aula a insegnare agli studenti, cioè ce la prendiamo con Capezzone che può piacere o non piacere ma comunque un libero pensatore italiano e può dire o non dire, potete comunque non vederlo se non vi piace, mentre la professoressa che insulta sui social pagata da noi un morto, un carabiniere, il giornalista della RAI che insulta augurando la morte a Salvini un percorso di riabilitazione della figlia, zitti e muti, perché? Perché? Io non riesco a capire questo double standard, perché? Non riesco a capirlo, non basta la tipica banale nostra contrapposizione, quelli sono di sinistra e quelli sono di destra, non basta, c'è una parte del cervello nella nostra comunicazione, per cui comunque, comunque se tu attacchi la Carfagna come faceva la, come si chiamava l'attrice, dicendo il suo passato, i suoi poster, le sue cose, tutto sommato è accettabile, se tu pubblichi le intercettazioni più orribili è tutto sommato accettabile, se tu c'è un giornalista della RAI che dice una cosa di questo tipo è tutto sommato accettabile, voce dal sen fuggita, facciamoli almeno per tutti allora queste voci dal sen fuggite. Beh, piano di Fioramanti, io su questo voglio chiudere perché Fioramanti, il nuovo ministro della istruzione, ha trovato finalmente la soluzione. Cari amici, abbiamo la soluzione del problema della scuola in Italia. Sapete come si chiama? Modello finlandese. Giuro, l'ho letto sul messaggero. Modello finlandese. Ragazzi ci sentiamo lunedì con la puntata di Quarta Repubblica e domani con la zuppa. Ciao!